Nella perfezione del tutto Orazio e William Eddy Fratelli americani, noti fra il 1870 e il 1880 per i loro fenomeni di materializzazione Semplici contadini non si allontanarono mai per molto dal loro villaggio di Chaiten, nel Vermont I fenomeni si manifestarono in loro fin dall'infanzia I due fanciulli furono allora vittime della brutalità del padre il quale per svegliarli dalla trance gli gettava addosso acqua bollente o li bruciava con carboni accesi In seguito pensò bene di sfruttarli facendoli operare come strumenti per denaro Nelle mani di bestiali sperimentatori che li legavano e sigillavano i nodi con cera lacca ardente che li ostionava sulle braccia e sulle gambe i due giovani svilupparono una medianità scarsamente controllata spesso violenta e brutale in ordine all'evoluzione delle entità che si esprimevano attraverso di loro Gli eddi furono studiati in particolare dal colonnello Henry Olcott inviato dal Daily Graphic di New York che riferisce di aver osservato in dieci settimane un centinaio di fantasmi fra cui i più frequenti erano un gigante indiano Santum e una donna indiana che si faceva chiamare Honto Olcott giunse a misurare l'altezza e il peso di questi fantasmi che variavano regolarmente dall'uno all'altro e ne notò anche la diversità di lineamenti di sesso e di razza concludendo che non si poteva pensare a un camuffamento dello strumento Chi produceva queste materializzazioni era William Eddy che rimaneva dietro la tenda del gabinetto medianico Il fratello Orazio rimaneva in vista fuori dalla tenda che non formava un gabinetto vero e proprio perché non giungeva fino al soffitto Dietro la tenda si udirono più volte suoni di strumenti musicali che non esistevano e si vedevano spoggere dall'alto mani e braccia spiritiche Una volta esplose lo strepito di una frenetica danza indiana che fece tremare il pavimento accompagnata da urla bestiali Commento I fratelli Eddy, il loro ambiente familiare e le entità che si manifestavano attraverso di loro esprimevano al meglio le esperienze che erano permesse dalla prima medianità organizzata Nella perfezione del tutto non poteva essere altrimenti Anche i fratelli Eddy prepararono l'avvento dei maestri materiali e degli strumenti che li hanno ricevuti e li ricevono Anche i fratelli Anche i fratelli Anche i fratelli Anche i fratelli Anche i fratelli